Campane che suonano a festa per celebrare il centenario della concessione del titolo pontificio alla Fonderia Marinelli, ma anche per lanciare un segnale di speranza e di pace per tutti i popoli del mondo. Ad Agnone è partita la due giorni di celebrazioni, incontri e di iniziative per accogliere il 62esimo raduno della Federazione Nazionale Suonatori di Campane, intitolato Rintocchi di Pace. Diverse comunità si uniscono sulle note di bronzi provenienti da tutta Italia e dall'estero, un evento straordinario e memorabile, spiegano dalla Fonderia Marinelli, che darà letteralmente voce alle campane, simbolo iconico di solidarietà e fratellanza, ma anche dell'identità della cittadina alto molisana. Noi siamo stati sempre attenti ai cultori delle campane e sono venuti dalla Spagna una delegazione inglese dal Galles, quindi tutto questo ci fa capire che le campane fanno rete e quindi è molto bello anche confrontarsi su quelle che sono le metodologie di suonate, anche con qualcuno le metodologie di quella che è la fabbricazione di una campana o anche un'installazione di una campana. Alla Fonderia Marinelli è stata anche presentata la campana del Giubileo 2025, ciliegina sulla torta, inoltre il concerto dell'Orchestra Sinfonica del Molise e l'esibizione del maestro Giulio Costanzo. Noi abbiamo creduto fortemente in questo evento, credo che le presenze in Agnone ci diano ragione e è un segno di continuità di quello che è la programmazione dell'amministrazione per quanto riguarda le attività culturali e turistiche che devono rappresentare uno degli asset principali per lo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio.